affronteranno questo inizio come le due formazioni se la vedranno e scenderanno in pista fin da subito perché è interessante vedere la reazione della BDL Minimotro subito con Mauro Menendez che prova ad opporsi a Bernadelli intanto vediamo ancora Carole Carrile per Brusa uno dei giocatori simbolo, attenzione intanto c'è il gol di Ortizio Iola che sfrutta il passaggio Brusa uno dei giocatori simbolo, attenzione intanto c'è il gol di già Tommaso Bernardelli cercato di allontanare, intanto attenzione a Salines di accendrarsi però il tiro che sembrava anche un passaggio per Manuele Pedroni Manuele Pedroni tenta l'alza e schiaccio e segna Manuele Pedroni bel gol del numero 97 classe 2007 tiro che sembrava anche un passaggio per Manuele Pedroni Manuele Pedroni tenta l'alza e schiaccio e ancora Salines ad allontanare attenzione è un assist per Menendez davanti a Bernardelli ritrova l'opposizione di Bernardelli adesso partita veloce con Ojola Brusa schiati dalla Rago alla BDL Minimoto attenzione Ortizio Iola Castiglioni, attenzione però a Caroli che perde la pallina con Ortizio Iola il gol di Ortizio Iola missile sotto l'incrocio dei pali potente la pallina con Ortizio Iola il gol due reti di Ortizio Iola attenzione OIola davanti a Salines il controllo di Menendez dando via l'azione per la squadra correggese con Amatuli con Ortizio Iola che prova la Pedroni per Caroli il tiro quindi pallina che era stata riconsegnata alla BDL Minimoto corregge attenzione dall'altra parte Brusa gol azione in gran velocità dell'Azzurra Novara tutto molto veloce tutto molto rapido è stata riconsegnata alla BDL Minimoto corregge attenzione dall'altra parte Brusa gol ricucire parzialmente lo strappo anche se dall'altra parte c'è Ojola che prova serzionata in difesa bravo Manuele Pedroni che si invola verso la porta di Tommaso Bernardelli la pallina potente di Giorgio Maniero che ha cercato la conclusione fermato dall'altro giocatore argentino Ortizio Iola che arriva davanti a Salines Amatuli però non si trovano Maniero la riconquista OIola Maniero in mezzo la parata di Zurra Novara per lui precedenti campanati con Gallotta e Mele parte Mauro Menendez finta di Menendez poi Caroli Menendez ancora Caroli Caroli attenzione il gol il gol di Alessio Caroli BDL minima per correggio che sfrutta perfetta Menendez ancora Caroli Caroli attenzione il gol Menendez però a intercettare la conclusione ancora attenzione Amatulli aveva ancora Menendez la squadra di casa ci crede Menendez davanti a Bernardelli perde il controllo Ortiz attenzione Caroli c'è il tiro di regola toccare Ortiz con la gamba intanto vediamo Ortiz ancora il palo oppure Stavola Gustav non abbiamo capito palo infatti di Ortiz attenzione gol di Menendez la più antica regola non scritta dello sport gol sbagliato non abbiamo capito palo infatti di Ortiz attenzione gol di Menendez Menendez e Ortiz Maniero punizione sono andati benissimo i tiri da fermo per la BDL minimotor ma Alessio Caroli cambia l'esito rispetto a quelli precedenti e trova il gol del 4 a 3 21 e 16 sono andati benissimo i tiri da fermo quella BDL minimotor la premerà tantissimo ma d'alta fatta attenzione è un 2 contro 0 Menendez Amatulli il gol il gol della BDL minimotor correggio 5 a 3 ha segnato Alessandro Amatulli che azione fatta attenzione è un 2 contro 0 Menendez Amatulli il gol è a terra non c'è il fallo dopo l'intervento di Tommaso Bernadelli attenzione Brusa davanti Yasalines il gol di Matteo Brusa esperienza pura glaciale il fallo dopo l'intervento di Tommaso Bernadelli attenzione Brusa da avanti Yasalines Alessandro Amatulli attenzione è un 2 contro 1 Righi da una parte ancora per Amatulli su Matteo Brusa dall'altra parte Caroli 1 contro 1 con Bernadelli Alessio Caroli cade